Il film Wonka con Timothee Chalamet sta riportando l'attenzione del grande pubblico sull'iconico personaggio creato da Roald Dahl, tra fan di questa nuova incarnazione e scettici meno entusiasti. Comunque la si pensi, la realizzazione di una storia originale basata sul personaggio rende legittimo chiedersi quali altre avventure mai raccontate possano arrivare al cinema, escludendo eventuali remake della fabbrica di cioccolato. Sicuramente si potrebbe continuare con storie ideate apposta per il grande schermo, ma effettivamente esiste un libro su Willy Wonka che non è mai diventato un film e si tratta del sequel della fabbrica di cioccolato, scritto proprio da Roald Dahl e pubblicato nel 1972. Ma perché non è mai diventato un film? E chi è il Willy Wonka dei libri? Scopriamolo insieme. Il signor Wonka era apparso tutto solo subito dietro il cancello della fabbrica, che ometto straordinario. Portava una tuba nera in testa, indossava una giacca a coda di rondine di un bellissimo velluto color prugna. I pantaloni erano verde bottiglia, i guanti grigio perla. In una mano teneva un bel bastone da passeggio dal manico d'oro. Una piccola elegante barba pizzetto gli ricopriva il mento e gli occhi. Gli occhi erano di una luminosità meravigliosa. Sembravano continuamente sfavillanti e scintillanti. L'allegria e il riso gli illuminavano il volto. Che aspetto vivace! Appariva così sveglio e pieno di vita. Continuava a fare piccoli scatti con la testa, ammiccando di qua e di là e cercando di afferrare tutto con gli occhietti vispi e luminosi. La vivacità dei movimenti lo rendeva simile a uno scoiattolo. Un vecchio scoiattolo furbo che guizza da un albero all'altro. All'improvviso cominciò a saltellare a passo di danza sulla neve e rivolto i cinque ragazzi raggruppati vicino al cancello allargò le braccia e sorridendo gridò benvenuti miei piccoli amici, benvenuti nella mia fabbrica. Così Willy Wonka entra in scena nel libro La fabbrica di cioccolato pubblicato nel 1964. Questa descrizione è tratta dal quattordicesimo capitolo, quello in cui i bambini che hanno vinto la visita guidata trovano il biglietto d'oro e si recano alle porte della fabbrica con degli accompagnatori adulti, incontrando finalmente il loro idolo. Nei primi 13 capitoli, infatti, Willy Wonka non è presente, ma il lettore ne viene a conoscenza tramite racconti dei personaggi che circondano Charlie Bucket, bambino protagonista del libro. Charlie vive in una famiglia dalle scarse risorse economiche, composta da genitori, nonni materni e paterni. Il cibo scarseggia e il cioccolato è addirittura un lusso da concedersi in occasioni speciali. La sfortunata situazione economica rende Charlie un bambino umile, affascinato dalla figura di Wonka, ma anche consapevole di non potergli si avvicinare, di non avere speranze di vincere ed entrare in una fabbrica tanto mitizzata. Anche le opinioni della famiglia sono contrastanti. Se la nonna crede che Wonka sia bislacco, nonno Giolo stima e racconta al nipotino la storia di come costruì un palazzo di cioccolata ad un principe indiano, che non ascoltò il consiglio di mangiarli immediatamente e si risvegliò il giorno dopo nel cioccolato sciolto. Storie coinvolgenti, ma lontane dalla miseria dei bucket. Lo stesso nonno Giolo ricorda a Charlie di non pensare ai biglietti d'oro, ma di godersi la cioccolata, alimento di cui non bisogna dimenticare il valore a prescindere dalla vittoria del concorso. Poi Charlie trova i soldi per concedersi altri tentativi, fallisce ancora e solo il giorno prima della scadenza trova l'ultimo biglietto d'oro. Nel quattordicesimo capitolo Charlie e nonno Giolo sono di fronte al personaggio bizzarro di cui avevano solamente discusso e sentito discutere, potendone osservare direttamente i comportamenti. Durante il giro nella fabbrica, Wonka mostra diversi lati di sé. Innanzitutto si dimostra giocoso, pieno di vitellità e orgoglioso di possedere una fabbrica diversa dal tipico stabilimento industriale. Il suo modo di scherzare però si dimostra a tratti spigoloso, tra risate sadiche sui bambini che finiscono nei guai e insulti fantasiosi contro i genitori inorriditi da tale atteggiamento. Willy Wonka mostra anche modi di fare da manipolatore, parlando sopra chi lo contesta, fingendo di non sentire le obiezioni, guidando il gruppo in un percorso mai dichiarato esplicitamente utilizzando un velocissimo ascensore di cristallo che rende impossibile orientarsi all'interno della fabbrica. Spesso ciò che dice supera i confini del plausibile e non è mai chiaro se stia dicendo la verità o se le sue siano solamente menzogne raccontate allo scopo di alimentare il proprio mito. Stando alle sue storie, appare come un personaggio al di fuori del reale, con un rapporto mai definito con i bambini. Sembrerebbe amarli, ma dice di aver inventato dei dolcetti contro la calvizie così che nessun bambino possa rimanere pelato, alterandosi quando il piccolo McTV gli fa notare che sono gli adulti a perdere i capelli. Inevitabilmente ci si chiede se il suo amore per i bambini non sia solo una trovata pubblicitaria dovuta alla vendita del cioccolato. E poi c'è l'aspetto più controverso, quello che più ha fatto discutere negli anni, Yumpa Loompa. Inutile addolcire la pillola. Willy Wonka sfrutta una tribù indigena portandola a lavorare nella sua fabbrica, facendola vivere al suo interno, pagando questi operai in chicchi di cacao. Si potrebbe pensare che Wonka ami così tanto il cioccolato da attribuirgli un valore economico ed alimentare inestimabile, ma ciò viene contraddetto quando parla delle lische di pesce e le bucce di banana presenti nello scarico dei rifiuti della fabbrica. McTV chiede il perché di quegli alimenti. E Wonka risponde, non penserai mica che viva anch'io di chicchi di cacao, no? Come se ciò non bastasse, nella prima edizione del libro Yumpa Loompa venivano descritti come individui dalla pelle scura poco abituati al vestirsi, al massimo coperti da foglie. Già nei primi anni settanta, con l'annuncio di una trasposizione cinematografica del libro, il problema di una rappresentazione del colonialismo in una storia per bambini venne sollevata dall'NAACP. Roald Dahl era convinto di non avere intenti razzisti, nonostante ciò scelse di assecondare le richieste riscrivendo l'aspetto fisico di Yumpa Loompa in occasione della seconda ristampa del libro, rendendo le creature selvagge, caucasiche e di fantasia provenienti da una giungla chiamata Umpalandia. Ai fini di quest'analisi del personaggio di Willy Wonka, la sostanza non cambia. Lui è un capitalista che prende un popolo che vive nella giungla e lo paga in chicchi di cacao, apprezzandone la musica nel sangue. Anche senza lo stereotipo razzista, non è esattamente il tipico personaggio dei buoni sentimenti che fa da mento dal bambino protagonista. E il punto è proprio questo. Willy Wonka è affascinante perché è pieno di contraddizioni, ama il cioccolato ma lo mercifica, parla bene dei bambini per poi punirli sedicamente, detesta la tv pensando che rende i bambini stupidi, ma viene costantemente corretto da Mike che ne è ossessionato. E poi Willy Wonka detesta i bambini viziati, detesta gli adulti che li rendono tali, detesta il perbenismo e lo dimostra ridendo delle disgrazie. Ad un certo punto Wonka racconta di un Umpa Loompa che aveva bevuto una bibita gassata e si era gonfiato volando in cielo. Lui lo aveva insultato urlandogli, rutta brutto scemo, rutta o non verrai mai più giù. La sua amara constatazione a fine racconto è che forse quel Lumpa Loompa fosse troppo educato per ruttare. E sono proprio questi i motivi che lo rendono un'icona della letteratura, un personaggio sfaccettato e misterioso capace di divertire o indignare il lettore a seconda della situazione. Willy Wonka è inquietante, ma è anche quello che regala la fabbrica a Charlie, l'ultimo bambino rimasto. Certo, lo fa perché in lui vede il bambino che più l'amministrerebbe secondo le sue volontà, ma che Willy Wonka sia un adorabile manipolatore lo abbiamo già capito nel corso del libro. Nel 1972, un anno dopo l'uscita del film diretto da Mel Stewart, venne pubblicato il seguito della fabbrica di cioccolato, dal titolo Il grande ascensore di cristallo. La storia riprende la dovera stata interrotta nel primo libro. Charlie è il nuovo possessore della fabbrica e si trova a bordo dell'ascensore di cristallo, con Willy Wonka, i genitori e i nonni sdraiati a letto. L'intento è quello di tornare nella fabbrica, ma a causa di un battibecco vengono pigiati i tasti che portano l'ascensore in alto, fuori dall'atmosfera terrestre. Nello spazio, i protagonisti si imbattono in tre astronauti statunitensi in missione, poi si dirigono verso il primo enorme hotel spaziale mai lanciato in orbita dall'America. Vengono però scambiati per una minaccia, generando confusione tra i cittadini che stavano seguendo l'impresa in diretta televisiva e tra i membri della Casa Bianca. A questo punto facciamo la conoscenza di una serie di personaggi bizzarri. Il presidente Lancelot Ardiligas, bambinone pieno di potere che vorrebbe legiferare contro le mosche che gli danno fastidio in ufficio. La sua bambinaia 89enne Miss Tibbs, che ha allevato il presidente da bambino e a 30 anni, vedendoli netto e disoccupato, gli ha suggerito di intraprendere la carriera politica. La gatta del presidente. Il presidente russo, rappresentato con stereotipi etnici, accusato da Gilligas di avere mandato qualcuno sullo hotel spaziale americano. Il presidente cinese, anch'esso rappresentato con stereotipi etnici ed accusato a sua volta dal presidente russo di avere mandato qualcuno sullo hotel spaziale americano. Il generale dell'esercito USA, che vuole continuamente far saltare in aria chi crea scompiglio. L'economista della Casa Bianca, un pelato che tiene i bilanci in bilico sulla sua testa. Mentre questi strambi personaggi interagiscono e si interrogano sugli intrusi, Wonka e Sochi atterrano all'interno dell'hotel, scontrandosi con degli alieni muta forma che lo hanno infestato, i cnidi vermicolosi. Fuggono sull'ascensore e tornano nello spazio, venendo ripetutamente attaccati da esemplari di questa specie, e Wonka racconta ciò che sa sui vermicolosi. Si tratta di una specie che vaga per lo spazio in gruppo, di pianeta in pianeta, sterminandone gli abitanti. Pianeti come Marte sono attualmente disabitati a causa dello sterminio d'opera loro, e non possono attaccare la Terra a causa dell'atmosfera che li brucia al distante, diventando ciò che gli umani chiamano stelle cadenti. A questo punto il gruppo capisce di doversi dirigere verso la Terra. Durante il tragitto, tra uno scontro con i vermicolosi e l'altro, riescono a collaborare come una vera squadra e a soccorrere gli astronauti americani incontrati precedentemente, portandoli sulla Terra e lasciandoli atterrare con i loro paracadute d'emergenza. L'ascensore, invece, si dirige verso la fabbrica di cioccolato, atterrando bruscamente. Qui, Willy Wonka presenta una sua invenzione non descritta durante il giro nella fabbrica del libro precedente, la Wonka Vite. Si tratta di caramelle capaci di ringiovanire chiunque le mangi, e per questo motivo i parenti di Charlie iniziano a litigare, per contendersi questi dolcetti dalle proprietà miracolose. Wonka osserva triste la scena, l'armonia del viaggio spaziale corrotta dalla Wonka Vite, e si allontana sconfortato, riflettendo sulla natura degli esseri umani, capaci di aggredirsi quando si tratta di possedere qualcosa. Nel frattempo i nonni continuano a litigare, e il risultato è che senza la supervisione dell'inventore assumono troppa Wonka Vite. Nonno George e nonna Georgina diventano bambini di età prescolare, nonna Josephine addirittura sparisce. Willy Wonka torna dal gruppo vedendo la situazione, e spiega che nonna Josephine è diventata una negativa, e che bisognerebbe aspettare il numero di anni sotto lo zero per vederla riapparire e crescere come una neonata. Chiaramente ciò richiederebbe troppo tempo, così Wonka tira fuori le Vite Wonka, liquido dall'effetto opposto alla Wonka Vite, e sale a bordo dell'ascensore insieme a Charlie. Stavolta l'ascensore scende sottoterra, portando i due nel popolo dei negativi, esseri incorporei, poco visibili e disposti in posizione supina come il segno del meno. Dopo aver trovato la nonna, Wonka spruzza il liquido, ma ne abusa, e alla fabbrica la nonna riappare dimostrando secoli di età. A quel punto viene dosata una giusta quantità di Wonka Vite per farla tornare alla sua età. Viceversa si spruzza la Vite Wonka sui due nonni rimasti bambini. Tutto si risolve. I nonni tornano a letto e non ne vogliono sapere di vivere altre avventure. Ma in quel momento un Umpalumpa porta una lettera dalla Casa Bianca, un invito rivolto agli otto protagonisti. Il presidente si congratula per il salvataggio degli astronauti e vuole incontrare gli impavidi eroi di persona. Questo evento inatteso entusiasma tutti. I nonni addirittura scendono dal letto e il gruppo entra nell'ascensore, emozionato all'idea di un nuovo viaggio. E così si conclude il secondo libro. La struttura narrativa potrebbe farci credere che quelle narrate da Roald Dalli in questo romanzo siano due storie completamente slegate l'una dall'altra, ma in realtà il fulcro di tutto è l'ascensore di cristallo, metafora del rischio, dell'avventura, della vitalità. L'ascensore infatti è anche simbolo dello spirito di gruppo. Durante la spedizione spaziale i personaggi imparano pian piano a sopportarsi e a collaborare, diventando una vera e propria squadra. Tornando alla fabbrica e uscendo dall'ascensore, il gruppo si corrompe, i membri della famiglia litigano, Wonka si rammarica nel vedere i conflitti tra gli esseri umani. Questa discordia crea problemi che verranno risolti da Wonka e Charlie grazie all'uso dell'ascensore e alla fine anche i nonni accetteranno di abbandonare il letto per salire tutti insieme a bordo, verso la Casa Bianca. Leggendo il grande ascensore di cristallo, si ha l'impressione di conoscere già Willy Wonka, ma di riscoprirlo sotto un'altra luce. Un esempio di ciò sono le implicazioni dell'avventura spaziale avvenuta all'inizio libro. Il lettore è spinto a ricredersi sulle bugie di Willy Wonka, rimettendosi in discussione e chiedendosi se non sia lui a saperla lunga su un mondo così bizzarro e imprevedibile. La verità è che l'elemento fantastico è accentuato in questo secondo libro, mentre il primo era una storia plausibile con qualche elemento sopra le righe. Retroattivamente si pensa agli avvenimenti della fabbrica di cioccolato come realistici in un mondo fantastico, ma è la lettura del sequel a suscitare questa sensazione. Il Willy Wonka, imprenditore sadico, lascia il posto a un più digeribile Willy Wonka anima della festa, da accogliere nella propria vita per salire sull'ascensore e intraprendere emozionanti viaggi verso l'ignoto. Risulta difficile determinare un solo motivo per cui non si sia andati avanti anche al cinema, ma si possono individuare diverse cause. Nel secondo romanzo, Roald Dahl spinge l'acceleratore sull'elemento assurdo, creando situazioni davvero difficili da replicare su schermo negli anni 70. Se a questo aggiungiamo una struttura narrativa insolita e semi-antologica, l'insoddisfazione di Roald Dahl nei confronti dell'attore scelto per il suo personaggio, l'iniziale flop del film riscattatosi solo in un secondo momento, possiamo capire perché una serie di circostanze abbia ostacolato lo sviluppo di un film che raccontasse al pubblico cinematografico i folli viaggi sull'ascensore di cristallo. Nel frattempo, solo la fabbrica di cioccolato ha raggiunto l'iconicità tale da permettere addirittura un remake, e il grande ascensore di cristallo è stato gradualmente offuscato nella memoria collettiva. Roald Dahl aveva in mente un terzo libro su Charlie e Willy Wonka, ambientato alla Casa Bianca. Sfortunatamente, scrisse solamente un capitolo oggi conservato al Roald Dahl Museum, e il lavoro rimase incompiuto, lasciando i lettori con il mistero di ciò che sarebbe potuto essere. Non possiamo sapere come si sarebbe evoluta la caratterizzazione di Willy Wonka andando avanti, e due romanzi a noi rimasti danno l'idea di un personaggio contraddittorio, dal passato poco definito. A tratti un manipolatore, che però, in diverse occasioni, mette in mostra il suo lato più sensibile e divertente. Con una caratterizzazione così poco rigida, gli autori che successivamente si sono cimentati nella scrittura di Wonka hanno potuto concedersi delle libertà creative, giocando con la curiosità del pubblico. Nel remake del 2005, Tim Burton racconta il difficile rapporto tra Willy e il padre, il severo dentista Wilbur Wonka. La carriera da produttore di cioccolato viene quindi giustificata dal bisogno di sfidare il volere paterno, affermando la propria identità. Nel prequel diretto da Paul King, invece, la trama è interamente fondata sulla crescita del protagonista ancora giovane, sul bisogno di affermarsi come venditore di cioccolato in un mercato pieno di spietati concorrenti, sul desiderio di inseguire il proprio sogno e riscattare una difficile condizione economica. Entrambe le versioni hanno lo scopo di umanizzare il venditore di dolciumi creato da Roald Dahl, proseguendo in un certo senso quel lavoro di rifinitura già compiuto nel secondo libro e adattandolo alle esigenze di un pubblico che è sempre più abituato a questo genere di operazioni. Willy Wonka è un personaggio che si presta a vivere numerose avventure e ad essere reinterpretato, proprio perché il suo mondo non ha una logica ferrea e il suo ruolo è quello di mostrare ai personaggi che lo circondano le meraviglie di un imprenditore bislacco, egocentrico, ma con un proprio cuore, talvolta opinabile. E forse l'idea di un prequel potrebbe essere stata la più azzeccata per ricominciare, per stabilire il DNA di Willy Wonka e utilizzarlo come base per le prossime geste cinematografiche. Citando le prime righe della novellizzazione di Willy Wonka scritta dall'autrice Shibia Alpoundar, alcuni bambini sono nati per essere produttori di cioccolato. Questo era certamente vero per Willy Wonka!